benissimo eccoci qua un altro capitolo della nostra storia di analisi oggi da parte finale del dei promessi sposi di manzoni il passo finale del trentottesimo capitolo che anche nel vostro libro di testo è intitolato il sugo della storia è uno dei passi del romanzo che sono stati più oggetto di discussione il romanzo è famosissimo non c'è bisogno che diciate grandissime cose per introdurlo però un minimo di introduzione va fatta vi faccio vedere come intanto vi faccio vedere la pagina del romanzo che sarà oggetto della discussione ok eccola qua capitolo trentotto il sugo della storia sempre tratto dai promessi sposi che un'opera qua manca la data di composizione come ben sapete i promessi sposi sono stati composti nella loro edizione nelle edizioni che noi oggi leggiamo tra il 1927 e il 1827 ovviamente e il 1840 ok le due grandi edizioni del romanzo precedute dal fermo e lucia che però è proprio dobbiamo considerare come un'opera completamente diversa dei promessi sposi il romanzo va a conclusione ci si aspetta dal romanzo romantico il lieto fine ci si aspetta che gli eroi e il bene gli eroi positivi e il bene triunfino nel romanzo tradizionale che ha tutte le caratteristiche del romanzo tradizionale narratore onnisciente i grandi ideali morali sottesi alla storia quindi ciò che il lettore si aspetta è proprio questo è proprio che il romanzo finisca bene in realtà una lettura superficiale del testo sembrerebbe questo sembrerebbe un lieto fine perché renzo e lucia dopo essere stati separati per tanti tanti tante vicissitudini e tanti capitoli del romanzo dal momento che la scelta narratologica di manzoni è quella di seguire le avventure alternativamente dell'uno e dell'altro dei suoi personaggi principali perché essi vengono separati dalla sorte appunto quando si arriva alla fine sembra che il bene triunfi l'innominato cioè il più cattivo dei cattivi è diventato un buono la morale ha avuto la meglio c'è stato il ripristino della giustizia e quindi è anche renzo e lucia nel loro piccolo benché due personaggi di umili origini riescono ad avere loro riscatto renzo riesce a mettere su anche un'attività di un certo prestigio è una parola grossa di un certo livello quindi sostanzialmente migliora anche le sue condizioni di vita mette su famiglia nascono dei figli e quindi sembra che ci sia il famoso happy end vediamo infatti nell'ultima scena del romanzo renzo e lucia a tavola intorno alla tavola di casa loro con renzo che è rappresentato nell'atto di raccontare le sue avventure e come sempre il personaggio principale non manca di mantenere una caratteristica di ingenuità che è bonariamente presa in giro dallo scrittore infatti renzo sembra mettere la parola fine al romanzo quando dice a me questa storia è servita tanto perché io attraverso tutte le mie avventure ho imparato come si vive che è vero perché la storia di renzo nei promessi sposi è una romanzo di formazione è un romanzo di formazione però anche la storia di lucia che è pura quasi sempre uguale a se stessa nella prima parte del romanzo ma mostra il suo spessore di personaggio principale forse proprio di personaggio protagonista del romanzo stesso in questo finale infatti lucia dopo aver ascoltato il marito che si vanta delle sue avventure e che riporta gli insegnamenti che ne ha avuto cioè che nella vita bisogna imparare a non mettersi nei guai risponde dicendo queste parole attraverso il commento del narratore ovviamente che un che giudica che riporta i pensieri dei personaggi e anche attraverso le sue stesse parole riportate col discorso diretto il testo è questo lucia però non che trovasse la dottrina falsa in sé ma non era soddisfatta le pareva così inconfuso che ci mancasse qualcosa a forza di sentir ripetere la stessa canzone e di pensarci sopra ogni volta e io disse un giorno al suo moralista che cosa volete che abbia imparato io non sono andata a cercare i guai sono loro che sono venuti a cercare me quando non voleste dire aggiunse suavemente sorridendo che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettermi a voi con una certa delicatezza il personaggio quasi fingendo sminuendo se stessa fingendo di non dire così importanti dice fa la riflessione fondamentale del romanzo la riflessione fondamentale non è vero che i guai non cercano chi non li va a cercare non è vero che nella vita l'importante è aver imparato a non cercare guai perché c'è anche chi nella vita i guai non li ha cercati mai chi ha sempre seguito una rettitudine morale chi ha sempre pensato di seguire il faro della propria etica individuale per autodeterminarsi ma ciò nonostante capita che le persone siano travolte da quello che qualcuno chiama destino altri chiamano la volontà di dio il discorso che ci porta lontano se vi ricordate anche dante alighieri nel momento in cui si domanda per quale motivo le persone dei grandi uomini del passato dell'età precristiana dovevano scontare la pena dell'inferno se nell'inferno la loro pena dell'inferno se se dio onnisciente quale è era perfettamente in grado di rendersi conto che erano persone vissute secondo dettami di alta rettitudine morale dante dava una risposta da uomo del medioevo diceva io sono troppo limitato per capire non posso capire dio non posso capire l'imprescrutabile l'imprescrutabile scusate disegno divino e qua c'è una risposta che se vogliamo è anche simile ma è più edificante è una risposta pedagogica quella che da manzoni è una risposta più civica quella di dante è la risposta dell'intellettuale che depone le proprie armi di fronte alla rappresentazione di qualcosa che è infinito che quindi non può essere compreso da una mente limitata come quella umana qua invece manzoni da un'altra risposta renzo rimase impicciato dice dopo un lungo dibattere di battere cercare insieme conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione ma che la condotta più cauta e più innocente non basta tenerli lontani e che quando vengono o per colpa o senza colpa la fiducia in dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore questa conclusione benché trovata da povera gente è cepparsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui come il sugo di tutta la storia cioè che cosa ci dice qual è il messaggio contenutistico che dà lo scrittore il messaggio è che non è dio non è l'entità che rende gli uomini felici l'uomo non può essere così ingenuo da credere che dio lo renderà felice nella vita terrena perché la vita terrena non è perché dio non si occupa di questo tipo di felicità dio può con la sua presenza rendere meno pesanti le fatiche della vita che esistono ci sono e non possono essere evitate la divina provvidenza agisce nel senso che interviene a volte per rendere meno pesanti questi guai o comunque nel suo imprescrutabile disegno la provvidenza rende anche i guai utili per la vita comune è un messaggio quello che da manzoni che è un messaggio sociale l'uomo non può pensare alla religiosità come un fatto meramente individuale di premio o non premio ma deve pensare alla spiritualità come si un aspetto individuale ma anche una capacità di accettare la propria sofferenza in un sistema che prevede che gli uomini debbano trovare un modo per stare insieme che ha le sue difficoltà è un mondo questo mondo reale un mondo in cui ci sono i guai per gli esseri umani benché dio esista e l'uomo deve accettare questa realtà che può sembrare complicata e complessa ma è questo dal punto di vista della narratologia è sempre interessante vedere la grandissima chiarezza del periodale manzoniano è sempre un modo di narrare sintaticamente ampio e ricco di proposizioni che si inseguono una dietro l'altra una con una grande capacità di utilizzare l'aggettivazione la variazione dei termini la lingua manzoniana è una lingua mai noiosa mai banale e anche il giudizio del narratore che è presente anche in maniera molto molto marcata rispetto a quanto noi siamo abituati a vedere attualmente nel romanzo contemporaneo però difficilmente diventa fastidioso è sempre un intervento pacato quello del narratore di questo romanzo è tutto qua è un passo questo che si presta a una presentazione più contenutistica che narratologica perché insomma dal punto di vista narratologico le cose che sappiamo di manzoni sono talmente tante sono non c'è bisogno di esplicitarle tutte nell'analisi di un passo ok quindi se vi capiterà questo passo l'analisi che dovrete farne sarà soprattutto di tipo contenutistico perché un passo molto rilevante ok grazie mille saluto che stasera ciao ragazzi